In coppia, lo scorso mese di gennaio, avevano prima aggredito, quindi picchiato e poi derubato, un anziano pensionato di Ostuni preso letteralmente alla sprovvista e alle spalle per un bottino di 300 euro. A distanza di tre mesi e mezzo, però, i due responsabili sono stati individuati e in mattinata raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare. Finiscono in manette il 31enne Cosimo Saponaro e il 21enne Fausto Vecchio, entrambi residenti nella città bianca, che dovranno rispondere dei reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate. L'arresto arriva a margine di una lunga ma fruttuosa attività investigativa portata avanti dai carabinieri della locale stazione in collaborazione con i militari del nucleo operativo radiomobile di Fasano al comando del capitano Gianluca Sirsi. I fatti contestati ai due presunti rapinatori risalgono allo scorso 19 gennaio via Bixio-Continelli-Ostuni, ore 17. Un 73enne, faleniami in pensione, molto conosciuto nella città bianca, viene prima spinto da dietro e poi buttato a terra, quindi inerme su asfalto, picchiato con pugni e calci. Un vero e proprio pestaggio con tanto di contusione al volto e fratture al costato per una prognosi di qualche settimana. Tutto per il portafogli custodito in una tasca dei pantaloni con al suo interno circa 300 euro in contanti, trafugati dai criminali prima di fuggire via. Da lì sono partite le indagini dei carabinieri che dopo le testimonianze raccolte sulla base di indizi all'apparenza elementari, quali corporatura e abbigliamento, sono riusciti a risalire ai due giovani, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Quanto poi raccolto con appostamenti e registrazioni, è quindi bastato al pubblico ministero Iolanda Daniele Achimienti per elaborare l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Maurizio Sasso. I due presunti rapinatori e pestatori sono quindi stati condotti nel carcere di Brindisi in attesa dell'interrogatorio di garanzia.